Io sono stupito del tentativo di fare polemica su un fatto che non esiste, perché in Italia tutte le regioni dispongono di una legge analoga a quella che domani viene presentata in Consiglio regionale e nessuno ha gridato allo scandalo, ha tentato alla democrazia, non mi sembra che ci siano stati attentati né in Emilia, né in Toscana, né in Piemonte. Ci ho detto, vedremo come si svolgerà, anche perché comunque in ogni caso sono convinto che in questo caso nelle prossime elezioni dovrà essere il governo a intervenire per cercare di accorparlo, magari per mettere insieme tutte le regioni che vanno al voto. Non so, sono valutazioni che farà il governo, ma non credo così fondamentale la necessità di anticipare o posticipare, sono tutte storie che qualcuno si è raccontato e che adesso cerca di portare avanti. Quindi se va avanti bene, bene, se no non c'è problema.